Alla Dispolia arriva la nuova caserma dei Carabinieri. È stata infatti firmata la convenzione tra il Comune e la società che si è aggiudicata la gara d'appalto per la realizzazione dell'edificio. Ad annunciarlo il sindaco Alessandro Grando che ha comunicato la conclusione positiva della procedura. Dopo 12 anni finalmente si parte, ha commentato, a nome dell'intera città non posso che ringraziare tutti gli amministratori e dipendenti comunali che in questi mesi hanno lavorato duramente per raggiungere questo storico risultato. Con la costruzione della nuova caserma continua Grando. La stazione dei Carabinieri, che ringrazio per la costante collaborazione e per il grande lavoro svolto ogni giorno, potrà infatti aspirare a un aumento di personale che consentirà di elevare il livello di sicurezza nella nostra città. Si avvia finalmente a risoluzione la vicenda dell'attuale sede di Via Livorno. Un anno fa i proprietari dello stabile avevano richiesto il rilascio della struttura. La cerimonia di apertura del cantiere è prevista per giovedì 24 ottobre alle 10 in Via dei Narcisi.